Ciao di nuovo da Marco Antonio e il Cinghiale di Natale, saluto sempre tutti i patrizi e i playbay naturalmente. Siamo alla lettera numero 269, ce la invia via email Furio Camillo, sei quello da metro, lui, bravo. Caro Marco Antonio, per Natale vorrei tanto uno smartphone di ultima generazione che giri video e permetta di caricarli immediatamente sul social network, Furio Furio. Ah cosa, Furio Camillo, come ti chiami? Ma mica vorrei far stranieri il Cinghiale di Natale, no? Ma che c'era bisogno di scrivere la lettera per una cosa del genere, fatta in giro in un centro team e chiedi dell'offerta team tutto smartphone, ma che ce vuole? Ma guarda, questo io certe volte non capisco, ma chi te scrivono a fare? E pazienza, Cinghialo.